Si è svolto questa sera a Cagliari l'evento finale dell'Hackathon Monumenti Aperti 2022, una challenge centrata sulla sperimentazione e dimostrazione delle possibilità offerte dalle piattaforme digitali nei processi creativi. L'Hackathon Monumenti Aperti 2022, dal titolo La creazione di contenuti sui social per la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, organizzato da Opificio Innova, realizzato in partnership con i Mago Mundi e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna Innois, intende promuovere soluzioni innovative per la sperimentazione e dimostrazione delle possibilità offerte dalle tecnologie digitali e dai social nei processi di fruizione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale sardo al centro dell'edizione 2022 di Monumenti Aperti. L'iniziativa ha visto due sfide in parallelo, una social challenge e una in presenza, che si sono svolte da inizio novembre e sono terminate con l'evento finale di premiazione che ha avuto luogo nella Sala 20 di Opificio Innova.